Ancora, queste droghe possono aumentare l'assorbimento intestinale dei salicilati, in particolare dell'acido acetil salicilico, e ridurre l'effetto terapeutico del litio. E ancora, possono incrementare i livelli plasmatici dei farmaci antimicotici, in particolare dell'itraconazolo, e anche quelli di ciclosporina, seppure in modo moderato. L'effetto è più marcato sugli antimicotici che sulla ciclosporina. Qui l'effetto è, almeno secondo letteratura, piuttosto modesto, però comunque è segnalato. Il biancospino, questa è una droga molto utilizzata soprattutto per combattere la nevrosi cardiaca, l'eretismo cardiaco. Anche qui abbiamo delle segnalazioni bibliografiche, nelle quali si riporta che il biancospino potenzia l'effetto della digitale a livello cardiaco, potenzia l'effetto dei beta bloccanti, e probabilmente, ma qui le segnalazioni sono un po' conflicting, anche dei farmaci antiaritmici, ma in particolare della digitale e dei beta bloccanti, che come sapete bene sono farmaci di larghissimo impiego. Questo era un po' uno studio che invece contraddice un po' le segnalazioni precedenti, perché in questo studio si segnala che invece l'estratto di biancospino su volontari sani non è stato in grado di interferire con i parametri farmacocinecici e la digossina. E secondo questo studio, pertanto, il biancospino e la digossina potrebbero essere dati anche in contemporanea. Studi precedenti dimostravano un potenziamento dell'effetto della digitale, questo studio abbastanza recente tenderebbe invece a negarlo. L'echinacea, anche questa è una droga di larghissimo impiego, negli Stati Uniti è una delle cinque droghe vegetali più vendute sul mercato, quindi è una droga, anche da noi un po' meno, ma insomma anche in Italia, l'estratto di echinacea viene molto utilizzato, soprattutto come immunostimolante a specifico. E qui sull'echinacea non ci sono grosse segnalazioni, è comparsa una segnalazione abbastanza recente nella quale si sostiene che l'echinacea interferisce con la biodisponibilità del midazolam, aumentandola in modo moderato. Ecco, ancora sull'echinacea riduce la clearance orale della caffeina, della tolbutamide, mentre non modifica quella del destrometorfano. Questo significa che l'echinacea interferisce con alcuni isoenzimi del citocromo P450, in particolare con la CIPA2 e con la CIP3A, per cui tutti i farmaci che vengono metabolizzati da questi isoenzimi, teoricamente, anche se non abbiamo ancora prove specifiche al riguardo, tutti i farmaci che seguono quella via catabolica, teoricamente potrebbero essere disturbati dalla contemporanea assunzione di estratto di echinacea. Il finocchio, qui c'è un'unica interazione importante ed è con la CIPROFLOXACINA. La letteratura ha indicato che l'estratto di finocchio ostacola l'assorbimento, la distribuzione e l'eliminazione del farmaco e riduce in modo significativo i livelli plasmatici di CIPROFLOXACINA e quindi riduce ovviamente l'efficacia di questo farmaco. Il ginkgo biloba, questa è una droga forse una delle più adoperate a livello mondiale, anche in Italia abbastanza usato, negli Stati Uniti è la seconda droga vegetale più utilizzata in assoluto, ha un larghissimo mercato mondiale, l'indicazione principale, come sapete, è quella dell'insufficienza cerebrovascolare senile, quella è l'indicazione, poi ce ne sono molte altre, ma l'indicazione TOPICS classica è cerebropatia senile evolutiva. Il ginkgo biloba ha delle interazioni farmacologiche rilevanti, tanto che il Ministero della Salute due anni fa ha imposto di scrivere sulle confezioni vendute in farmacia di questa droga non somministrare in pazienti in terapia anticoagulante, non somministrare in gravidanza, in allattamento, eccetera, eccetera. Il Ministero correttamente ha richiesto che sulle confezioni fossero scritte queste frasi. E in effetti il ginkgo biloba potenzia in modo significativo l'effetto di tutti i farmaci anticoagulanti, e di questo bisogna tenere assolutamente conto, potenzia ovviamente anche l'effetto dei farmaci antiaggreganti piastrinici, aumenta l'ototossicità dell'amicacina, e è molto interessante anche un effetto del ginkgo biloba sui farmaci antiepilettici. Eccolo qua. In particolare si è notato che il ginkgo riduce in modo significativo l'effetto del sodio valproato e della carbamazepina, un po' meno quello dei barbiturici, però riduce anche l'effetto dei barbiturici. Questo è particolarmente importante in un paziente epilettico che assumesse questi farmaci. Il ginkgo può interferire anche con i farmaci antidepressivi, in particolare con i farmaci antidepressivi triciclici. Di questi farmaci può potenziare l'azione in quanto favorisce l'aumento intracerebrale di dopamina e di catecolamine che hanno già di per sé un effetto euforizzante, questo può sommarsi all'effetto euforizzante agli antidepressivi e provocare crisi maniacali nel paziente. Il ginkgo è incompatibile, assolutamente sconsigliabile l'abbinamento terapeutico con la fluoxetina o anche col trazodone, in quanto con la fluoxetina sono segnalati casi di crisi maniacali molto violente e in pazienti che assumevano in contemporanea ginkgo e trazodone ci sono stati addirittura casi di coma. Ecco, sul Diltiazem, anche qui, studi abbastanza recenti, fino al 2003 non era stato segnalato nulla al riguardo, anche qui c'è una segnalazione in letteratura che dimostrerebbe che il ginkgo interferisce anche con il Diltiazem, nel senso che tende ad aumentare la biodisponibilità e quindi l'effetto di questo farmaco. Anche di questo va tenuto conto in quanto è un medicinale, direi, piuttosto utilizzato. Ecco, alcuni hanno tentato di capire quali fossero i componenti del ginkgo che potevano provocare maggioritariamente queste interazioni e si è visto che sono i flavonoidi, soprattutto i flavonoli, la quercetina, la pigenina, il kenferolo, la miricetina, eccetera, i quali interferiscono soprattutto con la CIP1A2 e con la CIP3A. E quindi, ovviamente, possono disturbare il metabolismo dei farmaci che vengono metabolizzati da questi enzimi facenti parte del complesso P450. La liquirizia, anche prima è stata citata la liquirizia, in effetti è una droga tradizionale, storica, che veniva utilizzata soprattutto come gastroprotettore in passato. Sapete che la liquirizia ha una notevole azione ipertensivizzante che quindi la controindicazione numero uno è non utilizzare nel paziente iperteso. Questa è la controindicazione ormai nota, diciamo, un po' a tutti. Però la liquirizia, oltre a questa, ha anche delle interazioni farmacologiche dimostrate in letteratura. Per esempio, questa droga aumenta l'attività dell'ibuprofene, del warfarin, dei salicilati e dell'acido desossicolico, in quanto ne riduce il legame con le proteine e quindi aumenta la quota parte di farmaco libero. È stato dimostrato che l'abbinamento liquirizia con traccettivi orali potenzia l'effetto ipertensivizzante proprio della liquirizia. Mentre invece questa droga riduce l'efficacia dello spironolattone e di altri diuretici risparmiatori di potassio, riduce l'azione dell'acido amminofen e può sinergizzarsi col succo di pompelmo nell'aumentare la ritenzione di sodio e nel favorire l'escrezione di potassio. Quindi pompelmo e liquirizia potrebbero aumentare l'effetto ipertensivizzante della liquirizia stessa.